Siamo qui a guardare, da qui fino alla fine del campionato, davvero può succedere di tutto, poi chissà se ci sarà qualche squadra che ha anche la possibilità di scegliere il lato del tabellone dove andare. Però, prima di chiudere questo capitolo, direi di gustarci il quintetto della settimana, sempre selezionato da Leonardo Balletta, offerto dal Trestor di Fuorigrotta. Quintetto numero 19 per Basket Time. Lo affidiamo alla regia di Antonio Cioppa, 19 anni, che nella giovanissima Maddaloni di questa seconda parte di stagione sta crescendo partita dopo partita. Già promesso a Corato, Domenica ne ha messi 24 con 5 triple e 6 assist contro il Basket Club Irpinia. Al suo fianco tutta la poliedricità di Tommy Milani, che con Valmontone ha messo insieme 17 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi e 4 assist, confermando tutte le qualità per cui era stato scelto quest'estate. In ala piccola Luca Campogrande, nella clamorosa rimonta di Avellino su Varese, hanno sicuramente avuto più peso il solito Caleb Green e un De Monte Harper sempre più convincente. Noi però andiamo con Luca, che in una serata di grande emergenza per la Sidiga, si è attratto fuori dal cilindro 12 punti ed una faccia tosta preziosissima. Da qui alla fine, coach Vucinic potrà contare anche su di lui. Da quattro atipico schieriamo Lorenzo Tortù, che ha mandato letteralmente al manicomio l'intero frontcourt della Luis Roma, chiudendo con 21 punti, 10 rimbalzi e 4 recuperi. Infine sotto i tabelloni, nonostante la beffarda sconfitta subita da Luca, convochiamo Christian Simon di Battipaglia. Se è una partita che sembrava segnata in serie di pronostici, si è risolta solo a 4 secondi dalla fine. Graham Mayor è della lunga americana, che è chiuso con 31 punti, 11 rimbalzi, una stoppata e 3 assist. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.